Ciao, buona serata, eccoci ad una nuova diretta l'ultima della settimana, oggi è venerdì e si prevede un fine settimana molto piovoso, quindi oggi godiamoci ancora un po' di nuvole, poi mi sa che domani e dopo danno un sacco di acqua, ma a noi non importa perché tanto, insomma, qualcosa da fare lo troviamo sempre. L'ospite di questa sera, dopo aver saltato ieri perché avevo detto che avevo un impegno, siamo passati all'ospite di oggi con una persona che ho conosciuto molto simpatica, molto intraprendente e se vedete alle mie spalle, ecco, c'è la sua struttura, c'è il suo, mi spiace chiamarlo B&B perché è una cosa molto bella, molto particolare, non so se vedete, adesso faccio il segno col mouse, queste due casette grigie sotto la casa rossa, ecco, infatti parleremo proprio della carossa. Il titolare è Isaac Castellani che ha sistemato, insomma, questa location speciale davvero particolare che si trova proprio sotto il Castel Grumello, infatti se vedete sopra qui c'è il Castel Grumello che svetta. Da questo luogo si gode veramente di un panorama spettacolare, quindi questa è una puntata dedicata, beh, innanzitutto ai valtelinesi che magari non conoscono questa struttura che ha aperto i battenti non da tanto. E poi anche per i turisti, tutte quelle persone che volessero decidere di venire in Vartellina, passare le vacanze, visto che quest'anno dicono che sia più gettonato la montagna rispetto al mare perché, insomma, andare al mare nelle situazioni che ci hanno un po' in posto non è una gran bella cosa. Allora la gente preferisce andare in montagna, sembra che tutti gli appartamenti, i B&B, tutte quelle location che hanno anche una piccola cucina siano andate a ruba, che sia impossibile trovare dei posti. Ma ben venga perché comunque dopo questo lockdown che ha portato un paio di mesi di totale inattività, in particolare le strutture ricettive, questa è una cosa molto importante adesso, insomma, che si torni nuovamente a lavorare. Anche perché la gente ha ancora voglia di andare in vacanza, magari con delle accortezze, magari non farà più le vacanze come prima, però sicuramente la voglia di rilassarsi, di staccare, di togliersi dalla normalità resta sempre perché si ha voglia di andare via. Adesso poi dal 3 hanno riaperto, volevo dire, le frontiere. No, possiamo passare da una regione all'altra, quindi ci possiamo, ci si può spostare. Io finalmente domani vedo mio figlio che è uscito dalla Svizzera, finalmente da febbraio che non lo vedo. E quindi insomma ancora un pochettino di, in più di normalità ci vuole, ecco ci vuole. E quindi dicevamo che se decidete di passare le vostre vacanze in Valtellina, di opportunità ce ne sono veramente tante. Gli eventi purtroppo sono ancora tutti sospesi perché non si sa bene ancora cosa succederà sotto quell'aspetto perché hanno perdo pian pianino l'attività. Io ad esempio come calendario, insomma, di eventi non ce ne sono. Sono tutti eventi virtuali, quindi oggi la gente ha preso questa abitudine tecnologica di vedersi a distanza attraverso degli schermi, che non è la stessa cosa. Però io dico, meglio di niente, mancanza d'altro, benvengono anche queste situazioni. Sicuramente anche quando parliamo con Maurizio della guida, le cose di andare a visitare, è bello vederle virtualmente attraverso uno schermo perché comunque ci facciamo un'idea di quello che c'è di bello da vedere, quello che la Valtellina ci propone. Però poterci andare fisicamente è tutta un'altra storia, insomma, anche perché ritorna quel contatto umano, quel rapporto con le persone che anche se dobbiamo vederci con le mascherine, però è tutta un'altra cosa che rispetta uno schermo. Allora, oggi riapre anche Palazzo Besta, quindi se da domani volete andare a farci una visitina, anche questo bellissimo Palazzo di Teglio è aperto e quindi potrete andare a farci un giro. Ecco, eventualmente se qualcuno vuole andare a visitare con Maurizio, c'è la possibilità di farlo, mi contattate oppure andate sulla sua pagina Maurizio Zucchi, la tua guida e si organizzerà insomma per far visitare qualcosa. Visto che ha detto che è andato a Milano questi due giorni, ma l'ha trovata completamente, quasi completamente vuota. Insomma, non c'è molta gente in giro, ecco. Quindi abbiamo tante cose belle da vedere in Valtellina, ricominciare a fare qualche sport, un po' di passeggiate. Ieri ad esempio, ieri sera sul blog di Calendario Valtellinese ho messo un post che riguarda il laghetto di Triangia, ho parlato un po' di Triangia, della sua storia. Adesso, visto che non ci sono gli eventi, io ogni giorno metterò qualcosa, un post, qualcosa da visitare, qualcosa di bello da vedere in Valtellina, magari non cose proprio eclatanti, però carine per andare a farci una passeggiata. E il laghetto di Triangia merita, anche perché se avete dei bambini, poi c'è anche un bel parco avventura e magari un giorno invito come ospite uno degli organizzatori, intorno a questo laghetto c'è un parco di sopravvivenza, dove vi insegna, nel caso un giorno vi smarriste nel bosco, come sopravvivere, come accendere il fuoco, come crearvi un giaciglio, come cucinare, insomma tante cose che si possono fare nel bosco, che magari non sappiamo, è una cosa molto anche divertente per i bambini, visto che c'è anche una fune che attraversa proprio il laghetto, è possibile andare da una sponda all'altra, è considerato un laghetto veramente piccolo, però può essere un luogo divertente. Tra l'altro è un posto dove passare veramente una giornata in pieno relax e tranquillità, perché veramente è circondato dagli abeti e non si sente proprio nessun rumore. Ma ecco che è arrivato Isaac, adesso ci colleghiamo così parliamo con lui della sua bellissima struttura, che dovete assolutamente vedere perché è uno spettacolo, infatti poi ho preparato delle immagini e delle foto per farvi vedere, sicuramente vi invoglierò. Ciao Isaac, buonasera, ciao. Ti avevo perso per un momento, avevo paura di farci scappato. Sono stati dei problemi tecnici, però abbiamo risolto. Eh, guarda, per me è la normalità, guarda, per me è la normalità perché sono sempre alle prese con queste cose tecnologiche. Allora, io mi trovo davanti alla tua struttura, più o meno, più o meno, no. Tu ci sei dentro, io ci sono fuori. Io sono anche dentro in una suite. Tu sei proprio in una delle suite, sì. che si trovano la più alta, quella sopra, quindi vediamo questa, praticamente, da cui si gode un panorama spettacolare, perché la prima cosa da dire è quando si arriva in quella location, è lo spettacolo del panorama che si vede da lì. Sì, il panorama è proprio bello, devo proprio ammetterlo. Sì, 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 poi mostreremo le foto perché ne vale veramente la pena. Senti, Isaac, quando hai aperto il tuo Sweet and Breakfast, si chiama così? Allora, prima di tutto ti corrego subito perché continui a dirmi che è mio, che quando hai aperto, cioè mi dai sempre... Avete, eh sì, sì, io... No, sai perché? La mia moglie e la mia moglie. No, 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 hai ragione, hai ragione, mi scuso. Io prendo te come riferimento perché diciamo che sei il mio interlocutore, però poi sicuramente dietro c'è un lavoro, c'è un lavoro, insomma... Era una battuta. No, ma giustamente, giustamente. Poi se ci sono donne di mezzo attribuiamo i loro meriti, che veramente ne vale la vita, sono una di quelle che difende e porta in primo piano il lavoro delle donne. Quindi ecco voi, diciamo, avete realizzato questa struttura. Capita anche proprio sulle recensioni che nominano quasi spesso me, ma in realtà veramente il lavoro più grande che c'è dietro a una piccola struttura. Abbiamo solamente due camere. Allora dovevo invitare lei come ospite? Eh, infatti, però va bene. Senti, ma se la chiami che vuole partecipare, per me è un piacere avere anche lei. Ha vergogna, quindi è meglio... Fai da portavoce, dai. Allora, Isaac non è l'unico titolare, ma il portavoce della Carossa. Così almeno mettiamo subito le cose in chiaro. Certo. Niente, noi abbiamo aperto a fine ottobre del 2019, dello scorso anno, e niente, però siamo già rimasti fermi due o tre mesi, causa... Ma la casa rossa è proprio dalla mia moglie e dalla sua sorella e dei miei suoceri in pratica. Sì. Da più di 40 anni abitano lì. E poi, niente, l'abbiamo ristrutturata un paio d'anni fa. Sì. E poi c'è venuta anche questa brillante idea, un po' brillante, lo vedremo. C'è venuta questa idea di creare due camere, fare una sorta di bed and breakfast, anche se a tutti gli effetti noi siamo un agriturismo. Sì, perché infatti siete circondati, avete anche dei vigneti l'intorno. Noi abbiamo vigna e praticamente, però la formula vuoi che è un po' più sulla bocca di tutti è la sorta di bed and breakfast, anche perché se uno gli si dice un agriturismo... Si aspetta anche il mangiare, vero? Esatto. La prima cosa che balza è quella. Fate anche da mangiare, no? Non facciamo, facciamo solo per notamente prima colazione. E prima colazione. Quindi è normale che viene un po' da dire un bed and breakfast, però a tutti gli effetti siamo un agriturismo. Ecco, io ho notato quando sono venuta a visitare la vostra struttura, c'è una cura dei particolari veramente spettacolare, cioè sono rimasta colpita dalle docce gigantesche, che sono grandi quasi come la mia casa, la cantina dove si possono fare le degustazioni. E poi anche gli arredi, perché insomma avete creato veramente un ambiente molto particolare, molto... Sai, quando si arriva in Valtellina siamo un po' abituati ad andare nella classica, come posso dire, baita in montagna, dove è tutto legno, dove è tutto rustico, no? Invece voi avete lanciato uno stile totalmente diverso, uno stile pop, lo chiamiamo così? Sì, infatti, vabbè, veniamo già da una realtà turistica, quindi masticavamo e mastichiamo già un po' quello che è l'aspetto ricettivo, quindi quello non ci ha proprio spaventato proprio per niente. Di più ci ha spaventato il fatto che ci troviamo in una zona che purtroppo non è turistica, perché Sondrio non è turistica, Sondrio e Limitrofi non sono paesi turistici, a reccezione della Val Malenco, però niente, abbiamo fatto, vabbè, queste due camere qua, una l'abbiamo fatta a stile retro, nel senso stile un po' vintage, dove abbiamo messo le cementine come piastrelle, abbiamo fatto dei colori su un po' british, quel verde british che richiama un po' gli anni sessanta, settanta, e poi niente. Invece l'altra camera, invece, l'abbiamo proprio voluta, abbiamo voluto completamente farne una diversa, tutta colorata, tutta con i quadri, abbiamo messo i quadri tra l'altro di un noto artista locale di Sondrio, il Frustamen, che è un artista che a me piace tantissimo, che a noi piace tantissimo, e niente. Scusa Isaac, mi dicono, il volume di Isaac è molto basso rispetto al tuo, magari hai la... ecco, se hai la possibilità... È al massimo. È al massimo? È al massimo. Aspetta, magari. No, così l'hai tolto, no? Al massimo. Ecco. Mi senti? Io sì, ti sento, ho letto i commenti che la gente dice non si sente il tuo ospite, digli di alzare il volume. Eh, io, a dire la verità, ce l'ho qua al massimo. Sei da computer o da cellulare? Da... con l'iPad. Con l'iPad? Non hai magari le cuffie, no? Col microfonino da attaccare? No, se mai provo a collegarmi col telefonino. No, vabbè, adesso vediamo. È molto basso, dicono, rispetto... O sennò urla, Isaac. Eh, dai, urlo un po' di più, almeno magari. Ecco, cerca di non allontanarti troppo dal microfono, magari mettiti un po' più vicino all'iPad, è così. E niente, e invece l'altra camera, l'altra suite, l'abbiamo chiamata, proprio per questo stile tutto colorato, tutto un po' diverso, l'abbiamo chiamata la suite pop, che infatti anche le poltrone sono tutte quelle con gli orecchioni, quelle un po' colorate. abbiamo messo, appunto, i quadri di questo artista locale, lo Stefano Muffatti, in arte Frustaman, che è un artista che a noi piace tanto. Frustaman? Perché Frustaman? Eh, beh, questo dovete chiederlo a loro. Ma beh, allora magari potrebbe essere uno dei prossimi ospiti. Sì, tra l'altro lui è di Sondrio. Ah, ok. Ha tantissimi follower. Bene. È uno stile un po'… Un po' particolare. Non piace. Certo. Noi, in quella camera, la Pop, ci vedavamo bene, appunto, proprio i suoi quadri. Perfetto. Perfetto. Dicono che nulla accada per caso. Merita davvero di conoscerlo e… perché è anche un tipo veramente semplice, umile. No, è una brava persona. Bene. Lo contatteremo presto, allora. Senti, noi parliamo sempre di camere, ma in realtà è come se fossero dei mini appartamenti tuoi, perché sono proprio… hanno ingressi indipendenti, vero? Sì, allora, sono tutte e due, entrata indipendente, ovviamente. Sono camere da 45 barra 50 metri quadrati. Abbiamo… Magari le mostriamo così, almeno cominciamo a vedere… Sì, in questa, a dire la verità, dobbiamo ancora fare i letti, però ve la mostro. No, no, ma la mostro dalle fotografie… mostro le fotografie che mi hai mandato, no, va tranquillo. No, perché aspettiamo sempre un po' la gente, quando arriva gli facciamo al momento. Certo. Tanti sono i decimini. Li fa al momento la moglie. Ecco, ecco qua. Ecco qua. Allora, questo è il vostro logo della… Questo è il logo. Della carota. Sì, praticamente il logo rappresenta i due quadrati, sono appunto le due suite. Ah, ok, le due suite, quella in basso, quella… Adesso, ok, sono sempre in pani. Eccola qui, che si vede molto bene. Ecco, questa è già vecchia come foto, perché sopra le due strutture l'idea iniziale era di quella di proseguire con le vigne. Sì. Ma il problema che abbiamo riscontrato è stato le vigne facendo radici, magari andavano a toccare la guaina e protezioni appunto dalla struttura. Certo. E quindi abbiamo messo i vasoni di mirtillo. Ah, bello. I nostri ospiti nel periodo della raccolta dei mirtilli, se vogliono, possono… Che dovrebbe essere tra non molto, vero? Esatto, tra poco. Non è chilometro zero, è metri zero. Metri zero, che bello. Poter magari alzarsi la mattina, qui ci sono le sdraio fuori, si prende un po' il sole e poi si va sul tetto a raccogliere i mirtilli per la colazione. Ma che bello. Perché no? Infatti adesso, se le notate, ci sono… Ecco, infatti in questa foto, in quella bassa, l'avevamo messi. Ecco. Sì, sì, si vedono. Si vedono qua tutti i vasi. Esatto. Invece in quella sopra dovevamo prendere lo spirito giusto perché è stato veramente faticoso portare… Immagino. …di vasi sopra. Dovevamo fare un giro tutto strano. Allora, vabbè, niente. È stata una faticaccia, è stata una faticaccia. Però ne valsa la pena, dai. Ma sì. Ecco qua, questo è uno dei quadri. Questo è un quadro proprio del mio amico Frustaman. Eh, sono stile così. Certo, ma senti, ma le strisce colorate fanno parte del muro? No, le strisce colorate sono una tenda… Ah, una tenda. Sì, è una tenda… come si usano un po' nelle discoteche, chiamiamolo così. Sì, ma sai se sembrano le strisce del muro veramente belle? È una tenda. Si vede forse in una foto dopo. È una tenda che divide la zona notte e la zona giorno. Perché questa suite, la pop è, è un po' più grande rispetto all'altra. Ok. Infatti, chi fa più di una notte, solitamente li mandiamo in quella suite, appunto, proprio perché è un po' più grande. Ecco, diciamo che ambe due hanno l'angolo cottura, giusto? Esatto. Ah, ecco la tenda che si vede. Esatto. E poi le poltrone quelle colorate, che sono comodissime queste. Infatti… Certo. Le abbiamo testate, sono veramente belle. Delle bellissime vetrate, dove uno apre la finestra, poi gli viene invaso dal sole, insomma, da questa luce, che è uno spettacolo. Ecco, sul retro c'è un altro quadro del Frustaman. Ecco. Sì, sì, però è vero, proprio azzeccato, i colori, lo stile, proprio perfetto. Tra l'altro adesso se ne deve fare un altro, però quando gli verrà l'ispirazione, chi lo sa. Qui si è un cielo plumbeo. Sì, abbiamo fatto proprio una foto l'altra sera, di quando era… mi piaceva questo contrasto rosso e nero. Certo, si vede molto. Tra l'altro, l'altra sera l'Eco ha fatto un disastro con la grandine, vero? Sì, sì. Noi siamo stati fortunati sotto questo aspetto, anche questa volta. Qui è proprio dove abitiamo noi. Dove abitiamo noi, vabbè, questo l'insegna qui. L'insegna il vostro… ecco. Ecco qua, qui si vede una camera. Ecco, io sono proprio in questa. Ah, ok, ok. Ecco, notare alle spalle, qui ci sono, si vedono i sassi, perché è proprio, è stata costruita proprio a ridosso delle rocce questa camera. Tra l'altro questa l'abbiamo lasciata un po' come fosse una basur, chiamiamola, notturna, però con la vista della roccia. E tra l'altro una finestra ancora un po' più grande di questa si può trovare nella doccia dove… eh, dove c'è la doccia. Sì, ricordo, ricordo che si vedeva il sasso anche lì. Sì, e questo era troppo bello da non… Sì, poi immagino di notte, vedendo questa roccia, perché poi avete mette le lucine giuste. Sì, eh, sì, dopo, sì. Lo stile, lo stile, insomma, è molto particolare, molto bella, molto bella. Ecco qua, qua si vede dietro, qui ci sono ancora questi sassi. Qui praticamente abbiamo lasciato dentro, che è la camera sotto, abbiamo lasciato una finestrella dove si vede appunto proprio il terrazzamento e invece nella parte superiore quel disegno praticamente va a riprendere il vecchio terrazzamento che c'era, però fatto con la tappezzeria. Bellissimo, bellissimo. Quindi un pezzo di muro vero è ricavato dal muro finto, diciamo, cioè dalla fotografia. Molto bello. Allora, avendo aperto proprio a ottobre, quindi abbiamo lasciato in stand-by di prendere i climatizzatori per l'estate e poi è venuta fuori anche questa storia qua del covid, quindi il problema del climatizzatore, però c'era anche il problema del, che c'era, cioè, che c'è un climatizzatore che fa anche da sanificatore di ambienti. Ma abbiamo scoperto, molto probabilmente faremo così, avendo appunto queste finestre qua che guardano sulla roccia e che portano un fresco naturale, che è una cosa incredibile. Sì, infatti mi viene in mente un po' il crotto, no? Eh, esatto, esatto. Vero? Quest'area naturale che sicuramente fa molto meglio di un climatizzatore. Esatto, infatti siamo indecisi se prenderlo o no. Beh, provate a vedere come funziona questa, poi siete sempre in tempo a prenderlo. No, ma anche io, è proprio una cosa nuova che abbiamo scoperto proprio adesso. Bene. Ecco, questo qua era invece la colazione. Ecco, perché voi portate la colazione col cavagno, giusto? Sì, allora, noi adesso non c'è qua il foglio. Praticamente il cliente si trova a un foglio all'interno della camera. Sì. Dove praticamente può scegliere l'orario e oltre al tipico cavagne che consegniamo con dentro tutti i prodotti che abbiamo noi selezionato, c'è anche le possibilità di ordinare cose un po' più particolari. Mi viene in mente la tartare di salmone, l'uovo cotto con il bacon, succhi, melograno. Ah, quindi proprio una colazione ricercata, non la classica colazione con biscotti, le brioche, eccetera. Quindi mettete anche proprio… No, no, allora ovviamente torte, biscotti e così. Prepara tutto Claudia, che è un amante della cucina, è veramente brava. E poi niente, poi i yogurt dell'amico Ugo di Gocci di Memoria, i succhi del fendoni qui sopra, mirtilli e lamponi, succhi di mela, insomma ce n'è veramente… Quasi tutto chilometro zero per quanto possibile. Sì, 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 sì. E poi cerchiamo proprio anche proprio di dare proprio il prodotto buono, ecco. Certo. Le brioche, il pane tutte le mattine fresche. E il cliente sicuramente apprezza questa… Sì, nella colazione sì, anche perché è una cosa un po' insolita, veramente mangiare tutto è impossibile. Siamo resi conto che veramente è tantissima… Abbondate. Però noi diamo la possibilità, mi viene in mente, se uno beve la spremuta d'arancio, è difficile che bevi anche il succo di mirtillo. Certo. Allora invece noi diamo la possibilità, gli diamo una scatoletta e portatele pure a casa, così le assaggi a casa. Che bella questa cosa, bella, bella. Tra l'altro l'idea di… cioè il fatto che voi non avete una sala comune come i classici B&B dove si fa colazione. Ma noi ne abbiamo la sala comune, però secondo noi avendo due camere, avendo… Certo. Una cosa un po' più intima, una cosa un po' più ricercata, chi non vorrebbe svegliarsi in camera… Infatti, infatti, e questo appunto, poi dopo il Covid, che è meglio ancora, perché la gente almeno sta, fa colazione, voi ne mettete il cesto e ognuno prende, si fa le sue cose, insomma ancora meglio, perché è ancora più in sicurezza. Avevamo già previsto che arrivava il Covid. Vedi, ma quando… vedi un po', vedi un po'. Eh, questo sono io che porto appunto proprio la colazione. Ecco qua, che si vedono le ciliegie, si vede il salmone. Ecco, questa è una parte di colazione. Sì. Infatti le ciliegie, queste sono di ieri, ieri mattina, sì. Mmm. E ho proprio raccolto, abbiamo un piccolo… sì, una pianta di ciliegie raccolte. Loro hanno preso anche la tartare di salmone, che la consegniamo proprio nel barattorino in ceramica, a forma di scatoletta di acciughe. Bellissimo. Ecco, da notare veramente i particolari, la cura dei particolari, perché magari qualcuno non ci fa caso, però sono tutte quelle cose che fanno la differenza, che fanno capire quanta cura c'è dietro questo lavoro, perché non è semplice. Anche solo vedo adesso le posate messe nel tovagliolo, legate con lo spago. Guarda che sono cose, almeno io da donna le noto e fanno la differenza rispetto a mettermi il tovagliolo di carta, così messo velocemente. Invece veramente ti dà il senso proprio di essere coccolato, veramente la fortuna. Nella vaschettina rossa è l'uovo cotto con bacon, abbiamo fatto un corso sulle colazioni, che ci hanno spiegato un metodo facilissimo per fare l'uovo cotto con bacon, piace veramente. Da un corso sulle colazioni, è fantastico. Mi piace, infatti proprio ieri i ragazzi che sono stati qua hanno detto cavoli l'uovo di insegnarmi la ricetta, una stupidata davvero. Davvero, davvero, bene, bene, bene. Beh, poi se hai voglia dopo alla fine ci racconti la ricetta, così magari anche noi ci mettiamo a fare. Sì, ma la racconto anche adesso, è tanto semplice, si imburra la terrina si chiama, perché poi Claudio fa queste cose, la terrina e si mette la pancetta, l'uovo ancora sopra la pancetta, dieci minuti in forno. Ah, dieci minuti in forno. Ma guarda, è di una semplicità incredibile. Ottimo, ottimo. Ah, invece voglio anche fare un po' di pubblicità alla splendida tartare di salmone che prendiamo alla Coam. Il salmone reale è questo. Salmone fresco? Sì, sì, beh, è chiaro. È proprio, è buonissimo. Che buono, io adoro il pesce crudo, quindi è veramente... Quando vado a prenderlo, ne prendo, vabbè, magari dieci, dodici, uno, intanto che vengo in macchina me lo devo mangiare. Ecco bene. Senti, poi vedo anche delle, cosa sono, dei pasticcini, dei biscotti. No, quelli sono i muffin che ha preparato Claudio. Ah, muffin. Un po' di cioccolato, sì. Uh, ma caspita, è proprio bravo Claudio. Cioè, beh, ma con una colazione del genere, poi uno, accidenti, non pranza più, effettivamente. Infatti, guarda, vi racconto proprio questa che è proprio, al di là che non racconto bugie, però... È capitato proprio settimana scorsa, due clienti che hanno voluto la colazione all'orario più... Era le nove e mezza. Sì. E poi io li lascio, l'undici e mezza, era l'undici e mezza più o meno, sono sceso per prendere, per riassettare, anche perché hanno fatto due notti, sono sceso per riassettare un po' la, la... il tavolo. Sì. Perché magari davano fastidio, poi gli ho chiesto se volevano riassetto della camera, fa no, no, guarda, lascici ancora un attimo. E allora io gli ho detto, fai così, mandami un messaggio, quando sei pronto, che scendiamo, tanto siamo qua. Sì, sì, non c'è problema. O alle cinque e mezza del pomeriggio io ho portato via la colazione. Morale della favola, nel senso, di loro hanno fatto proprio anche il pranzo. Accidenti, beh, ci credo, ci credo, cavolo, cavolo, una bella cosa questa. E dici, beh, vado lì e risparmio anche il costo del ristorante perché mi danno una colazione talmente abbondante che si può mangiare di tutto. Non saranno contenti i ristoranti. Eh, vabbè, dai. Non sarà per tutti così. Adesso abbiamo attivato anche una cosa carina, specialmente per questo periodo qua. Sì. Perché praticamente se uno ha paura un po' di andare al ristorante. Sì. Siamo, collaboriamo con il ristorante Trippi. Sì. E praticamente loro fanno la consegna in camera. Con Gianluca, bellissima questa cosa. Sì. E poi noi, appunto, avendo anche la fortuna di avere una, ma, una, adesso vi giro la telecamera e vi faccio vedere. È una cucina piccolissima, attrezzata, abbastanza con tante cose. Sì. O meglio, con il necessario. Però ammetti che arriva la pasta che vuole, non è così calda come dovrebbe essere. C'è proprio la possibilità di scaldarla, ecco. Non è una cucina dove uno viene a farsi la pizza. No, 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 certo. Però sai. Però magari uno va in bici tutto il giorno e dice ma stasera non esco, mi prendo un pezzo di pizza e me la voglio scaldare, quello può fare. Allora, Adriana dice dove si trova questo B&B? Questo B&B si trova a Montagna in Valtellina, sotto il Castel Grumello. Se vedi la foto alle mie spalle, lo puoi vedere. Poi, comunque, quando è finita la diretta, metto il link per la pagina, con tutti i contatti di Isaac, in modo che potete chiedervi quello che volete. Allora, prima ho visto la cantina, però ci torniamo dopo. Perché volevo chiederti una cosa, perché altrimenti poi mi dimentico. Voi avete anche il menù cuscini. Sì, ecco. Voi avete il menù cuscini, cioè, c'è una struttura che vi fa scegliere addirittura il vostro cuscino preferito. Sì, allora, facciamola un po' più semplice, o meglio che siamo a... O meglio, l'abbiamo fatto anche perché era abbastanza gestibile da fare, o meglio, avendo solo quattro posti letto, non è che era così complicato, a differenza di che magari ha cento posti letto... E certo, diventa un po' complicato. Si deve avere un magazzino pieno di cuscini. Ah, questa idea me l'ha data la mia figlia, perché ogni volta che, come tutte le bambine o i bambini che vanno a dormire nel lettone insieme al papà e alla mamma... Si porta dietro il cuscino. Tutte le volte si porta dietro il cuscino. E io gli dico, ma scusa, ma perché... Perché sul tuo non ce la faccio a dormire. Il mio è un memory classico, cioè... Certo. Mi trovo bene con quello. Lei invece praticamente ha quello in piume, piume morbido. Ma infatti, pensandoci, tanti quando vanno al mare o quando vanno in montagna, si portano dietro il... Sì, perché se becchi il cuscino sbagliato ti rovini la vacanza, se dormi male è un disastro. Infatti, il nostro obiettivo è quello di dire, tu vieni per soggiornare, per riposare. Quindi, se però riposi male... Eh certo, quindi voi fate tutto il possibile per rendere veramente confortevole al massimo la vacanza e il soggiorno, che sia lungo o che sia breve, insomma, facendoci... Quanti tipi di cuscini avete nel vostro menù cuscini? Abbiamo, allora, abbiamo quello che va per la maggiore, o meglio, quello che facciamo già trovare all'arrivo è un classico guanciale in piuma, in piuma d'oca, quindi è già un tipo. E poi invece c'è la possibilità di ordinare, o meglio, di scegliere il memory, quello in fibra all'aloe e quello ortocervicale. Ah, ottimo. Con questi quattro il 98% della gente... Certo. ...l'hai soddisfatta. Certo, ci sarebbe anche il cuscino in fieno... Eh, poi se vi capita il fachiro, vi chiederà quello in chiodi, però non potete accontentare tutti. No, ecco, con questi quattro qua noi pensiamo di soddisfare... Certo. Poi sono quattro posti letto, non è che è proprio... Certo. E' stato anche gestibile. E niente, questo praticamente... La gente guarda, legge tutte le informazioni necessarie, ma anche... Va bene, che uno lo sa, se è abituato col memory, lo sa che il memory ha quelle caratteristiche. E niente, ci manda un messaggio su WhatsApp, perché noi abitiamo proprio qua sopra, desidererei il cuscino memory piuttosto che... E le nostre hostess, che sono le nostre bambine, sono... Bellissime. Sono le addette alla consegna del cuscino. Io ho letto un po' di recensioni e sono tutte al top sul vostro agriturismo. Non so se io verrò mai a soggiornare da voi abitando a 5-6 chilometri di distanza. Però chissà mai che magari decido... Ti avevo detto, ho detto, vabbè, dico che vado, parto, vado lontano per staccare da tutti, vengo lì, non viene a cercarmi nessuno. No, poi, beh, se tu prendi zona Trentino, io per lavoro un po' ci andavo zona Trentino, ci sono tante strutture che mi viene in mente, hanno una struttura a Tresivio e lavorano tante anche con la gente di Sondrio o di Morbegno. Dai! Sì, sì, perché staccano, è un po' come andare quasi... Nella casa di campagna, diciamo, no? Che non è tanto lontana, facile da raggiungere, effettivamente poi è bello e... Anche, cioè, sto pensando proprio anche al discorso del trippy, che uno dice, vabbè, dai, non vogliamo andare tanto lontano, però vogliamo andare a fare un weekend fuori porta, esci dalla porta, vai lì, ti fai portare pure la cenetta e direi che è perfetto. No, ma in tanti poi, di Sondrio, conoscenti, che vogliono vedere la struttura e così, tantissimi che dicono, oh, mai vista Sondrio da questa posizione. Vero, confermo. È quasi una novità anche per il sondriese. Sì, adesso continuo con le fotografie, con le immagini, perché c'era ancora qualcosa da mostrare. Allora, poi arriveremo al panorama. Ecco, questa è la vostra cantina, o... No, cantina mi spiace, è l'angolo degustazioni. Sì, capita spesso che ci chiedono... Allora, premetto però una cosa, che la degustazione fatta con me non è professionale. A me mi piace il vino, bevo, ma dopo due bicchieri parto, che sono dentro, parlo qualsiasi... Lo devo ammettere e con l'occasione faccio anche poi le pubblicità, però quel che è giusto è giusto. Se uno vuole fare una degustazione veramente con... Va bene, adesso non mi viene il termine, però... Un po' di sommelier? No, nel senso, una degustazione seria, professionale, così, dall'Armando, dai valsi retici, secondo me... Sì, sì, ho partecipato a una degustazione di Armando, è eccellente. Posso dirti da dove vieni, posso dirti che conosco il produttore, però a me piace stare, fare quattro risate e raccontare... Beh, potrebbe essere un angolino dove uno fa uno spuntino, una merenda, senza neanche una degustazione particolare, magari una fetta di salame, un po' di formaggio e fanno una merenda. Sì, 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 guarda, quello... Ecco, però ci tengo a precisare che la mia è... Mi piace il vino, ma si limita proprio al... Certo, come meno a dire questo vino di questo anno, l'etichetta è questa, però non abbiamo... Adesso però dico alcune parole sul vino valtellinese, che secondo me non ha niente da invidiare a nessuno, ma non è perché è sempre la solita storia, la frase fatta. Noi abbiamo il re, il re del vitigno, che è il nebbiolo. Certo. Cioè, possiamo sbancare tutto il mondo, ma il Barolo è stato bravo proprio con il nome Barolo, noi dobbiamo essere in grado di veramente di far valere il nostro vino. Il vino valtellina, sì, assolutamente, concordo. Ecco, quindi però i primi che dobbiamo imparare noi, a cambiare noi la nostra testa, di dire, ah no, il nostro vino è il nostro acido, non è più acido, non c'è più nessuno che lo fa acido. Specialmente in questi periodi dove puoi analizzarlo, controllarlo, modificarlo, puoi fare... Se uno non fa vino buono adesso è un cretino. Io confermo che ultimamente, negli ultimi anni, la qualità del vino valtellinese è molto, molto migliorata, perché prima ce n'era una grande quantità e la qualità lasciava un po' desiderare. Adesso sono nate anche delle nuove cantine, dei nuovi produttori, anche giovani, che ci stanno veramente dedicando un sacco di tempo e stanno proprio lavorando sulla qualità. E quindi... Ma però dire, scusami, dire è migliorata, è ancora troppo poco. Cioè, noi abbiamo dei vini che non hanno da... non hanno competitor, veramente, perché noi abbiamo il nebbiolo, chiamiamolo chiave in nasca, perché sennò i piemontesi si arrabbiano e tutto quello che vuoi, ma noi abbiamo la chiave in nasca che non ha proprio niente da invidiare a nessuno. Cioè, vabbè, poi ci sarebbero tantissimi discorsi che si possono fare in cantina. Ecco, quelli dopo io parto. Questo è l'ingresso della cantina, vero Isaac, se non ricordo male? Sì, sì. Cioè, questo all'interno... Mi faceva il vino, il mio suocero, aveva messo... aveva fatto l'angolo dove vinificava, aveva messo su un muro e una soletta, mi dispiaceva distruggere. Ma, beh, bello! Perché sembra veramente proprio... Cioè, considerare che è all'interno questa cosa, giusto? Sì, abbiamo fatto praticamente un finto casello, un finto casello dove i classici caselli che si trovano nella vigna. Ecco, quindi quando sarà caldo, qui sicuramente farà fresco. Sì, sì, quello si sta bene. Sì, sì. Quindi se qualcuno fatica a dormire, scusa, nelle serate d'estate, lo portate in cantina, se è già bella che apposta. E poi, lì, di fronte... Se uno va in un casello proprio vero e proprio nella vigna, che cos'è che vede fuori dal casello? Vede la vigna. Certo. Ecco, noi abbiamo fatto... Adesso non so se ci avete mandato una foto. Ah sì, ce l'avevo quel traliccio di ferro finito. Sì, è un artista di Treviso che si chiama Valentino Moro. Lui fa opere solo in ferro battuto. E dove c'è rappresentante praticamente una vigna. Sì, sì, me lo ricorda. Eh sì, quella non l'ho messa, quella non l'ho messa quella. E beh, chi ha voglia di andare a vederla, sì. Eh no, cioè, possiamo far vedere tutto, sennò poi la gente non viene a vedere. Non so, dobbiamo lasciare anche un po' di curiosità. Qui poi c'è anche il palo per attaccare i salami, eventualmente. Eh sì, è una luce, vabbè. Allora, ecco questo... A proposito, scusa, a proposito della cantina, se non mi dimentico, la nostra particolarità è anche per premiare proprio la zona dove siamo. Abbiamo solo vino Grumello, cioè proprio di questa zona. Benissimo. Dopo, ovviamente, abbiamo anche qualche vino bianco, locale, qualche bollicina, qualche rosato, e qualche passito, va sempre valtellinese. però puntiamo proprio sull'aria. Noi siamo nel Grumello, se vuoi Sassella, no, non ce la diamo. Ma io dico comunque, in generale, i ristoranti valtellinesi, gli agriturismi, quelli che vuoi, dovrebbero proporre il 90%. Diamo un 10%, perché c'è quello che magari vuole il Barbera, il Barolo, non so che. Però, il 90% dovrebbero essere vino i valtellinesi. Perché ne abbiamo talmente tanti, per tutti i gusti, per tutti i prezzi, che veramente andare a comprare, a proporre vini di fuori regione, specialmente in questo momento in cui i produttori faticano, perché hanno chiuso i ristoranti per tanto tempo, e quindi tanto vino è rimasto invenduto dopo questo lockdown del Covid. E quindi, tu fai benissimo, fai una bellissima cosa. Io spero che tanta gente segua quello che stai facendo tu. Quindi siamo in Valtellina, dobbiamo bere Valtellinese, perché abbiamo veramente dei vini eccellenti. No, infatti, infatti, a tal proposito, mi viene sempre da ricordare questa frase qua, nel senso di dire che bisogna essere profeti in patria. Mi viene in mente, quando siamo in Italia, parliamo male dell'Italia, sono tutti ladri, sono tutti farabutti, sono tutto quello che vuoi. Se noi italiani andiamo all'estero e dobbiamo pagare, e dobbiamo parlare dell'Italia, ne parliamo benissimo. È vero, hai ragione. E la stessa cosa la stiamo facendo con il vino in Valtellina. Parliamo male dentro noi nella Valtellina, ma se dovessimo andare in Toscana a paragonarci con loro, noi gli diciamo, sì, ma noi abbiamo internazziamenti. Eh, certo. Siamo il nebiolo. Ma perché non fai il profeta in patria? È vero, è vero. Siamo noi i primi che dobbiamo cambiare testa. Bravo. Io i primi, sì. Sposiamo questa filosofia. Io, veramente anch'io, io sono una che fa veramente il tifo per la Valtellina, a parte che la promuovo, quindi lungo e largo. Ecco, questa è la visuale. Oh no, devi cambiare nome, calendario, devi mettere un altro nome. Vedremo, vedremo cosa può succedere. Chissà, chissà, ci sono delle cose che bollono. Calendario Lombardo, vedremo. Insomma, oggi essere, dire che siamo Lombardi fuori, dobbiamo ancora aspettare un momentino perché siamo un po', siamo un po' visti male, quindi manteniamoci nella zona Valtellina per ora. Eh sì. Allora, qui c'è lo spettacolo di Sondero, veramente a questa visuale che è veramente, veramente fantastico. Guardate cosa si vede da questa location. Ecco, io poi ho messo anche questa, anche qui un'altra visuale e poi, ecco, per far capire dove ci troviamo, in che zona, c'è il Castel Grumello. Ho visto, te l'ho rubata dal tuo profilo. Ho fatto bene, le cose belle rubale pure. Ecco, però per mostrare veramente in che zona siamo, che siamo veramente, altro che colli toscani, colli bolognesi, ma guardate cosa c'è in Valtellina, guardate cosa, cosa abbiamo, cosa abbiamo da andare a vedere. Ecco, questa, questa è, questo è uno spettacolo. Cioè. Io non ci faccio neanche più caso. Eh, certo, ma sai che anch'io da Sondero, io ho un'altra visuale da un'altra prospettiva, dove vedo Sondero così effettivamente, per quando viene qualcuno a trovarmi, che vede un panorama così, dici che bello. Quindi immagina due persone che magari provengono che se io dalla città fuori, abituati a vivere tra palazzi, grattacieli, ufficio, eccetera, poter passare un weekend o anche una settimana, affacciarsi alla finestra e vedere questa cosa, che poi questa è solo una foto dal vivo, è ancora più bella, è veramente, veramente magnifica, uno sguardo su tutta, su tutta la valle, veramente, veramente stupenda. che poi Sondrio è di sera illuminata e carina come... Sì, 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 io vedo il campanile di Sondrio dalla mia parte, vedo la zona della chiesa, io sono su questa collina più o meno e sono qui a Sant'Anna. Ah, ebbè, ma Sant'Anna è bellissimo. Sì, sì, io da casa mia veramente ho un panorama, un panorama veramente spettacolare. Voi state pieno Sassella. Sì, sì, esatto, allora io devo bere Sassella e tu Grumello. Senti, Isa, volevo ancora chiederti una cosa, ecco, dice Alessandra, ho visto una foto con vista su Sondrio in notturna fantastica, ecco, quella che abbiamo mostrato. Poi invece c'è Stefano Muffatti che dice, Isa, numero uno, eccolo l'artista, Stefano preparati che ti contatterò e così ci parlerai. Ecco, artisti non ho ancora avuti di quelli che dipingono, eccetera, quindi un ospite, un ospite da contattare per la settimana prossima lo chiamerò sicuramente. Ecco, ti ho già proposto il meglio, eh? Eh? Ti ho già proposto il meglio. Perfetto. Quindi. Allora, Isa, tu oltre ad offrire l'ospitalità ovviamente a queste persone che tra l'altro hai messo a disposizione le tue camere in periodo di emergenza per ospitare medici che venivano e infermieri che venivano fuori provincia, vero? Sì, sì. Siete stati bravissimi. Sì, ho detto a tutti, non abbiamo fatto niente di straordinario. Adesso, come adesso, cioè, l'unica cosa che mi dispiace è che non è venuto nessuno. Ma dai! Tantissimi, ma anche perché poi abbiamo capito il problema. Era un po' scomodo forse. Era perché poi avevano dirottato tutte queste problematiche del Covid a sondalo. e quindi cercavano più cercavano più in zona, sì, effettivamente, poi magari gente che viene da fuori dover percorrere, incontro noi, dover percorrere la strada avanti e indietro, magari di notte, nei turni, però è un gesto comunque che vi fa onore. Ecco, poi io volevo parlare invece dei tuoi giri in bicicletta, perché tu... ecco, insomma... Raccontaci cosa fai tu con la bici da strada, non sei uno che va con la MBT. No, è bella anche la mountain bike, bellissima, però io mi sono più specializzato. Tra l'altro oggi sono andato a Dalico, sì, sopra Castionetto, sì, l'altro giorno sono andato a Boirolo, sopra Tresivio, dove c'è un sanatorio che lì... Prasomaso, sì, che è tutto abbandonato, ecco. Questi qua sono discorsi della cantina, progetti, vabbè, però la po' bisogna... vabbè. E niente, a me piace un casino, cioè mi piace veramente tanto andare in bicicola, bicicletta da corsa e non c'è come la Valtellina dove ha veramente uno scenario cioè che che non è uguali davvero. Abbiamo, vabbè, oltre le classiche salite e le storiche e le più famose salite Stelvio, Gavia, Mortirolo, ma ne abbiamo altre 60, dico 60, che sono quasi purtroppo inesplorate proprio perché non è passato il giro d'Italia o perché non valicano o perché insomma è una serie di motivi. Che tu hai messo tutto su una pagina Facebook, giusto? Sì, adesso praticamente allora la dico tutta. Sto facendo questo libro o meglio, non è che lo sto facendo, lo sto leggendo e nello stesso tempo facendo. Questo libro qua è praticamente raccoglie appunto queste 60 salite dalla Valtellina e praticamente man mano le sto facendo, sono arrivato a 48, me ne mancano un po' Caspita! Bellissimo! E le sto proponendo sul sito, cioè su una pagina Facebook. Tra l'altro mi sono fermato perché c'era il Covid e dopo insomma mi dispiaceva erosi cavo perché dicevo cavoli lì devo ancora andare però allora però andavo sui rulli e adesso riprendo a farlo. Però cioè mi viene in mente ma ve lo garantisco e lo dice proprio anche questo libro per accennarvene una uno dice Mortirolo lega a questa salita qua una una salita veramente difficile famosa per Pantani abbiamo sopra Berbenno di Valtellina quindi si parla di 15 chilometri da qui Prato Maslino quella è una salita terrorizzante quella è una salita più dura del Mortirolo davvero quella è una salita che ti fanno male le mani quando scendi cioè accidenti purtroppo purtroppo non è diventata famosa perché non c'è passato il giro non valica non beh ma diventerà diventerà famosa perché ci accompagnerai tu le persone che vogliono andare in bicicletta che vogliono veramente accingersi ad arrampicare quindi fare una faticaccia perché Misak le porterà vero pensa che questa salita qua allora classifica le salite da 0 a 5 5 sta per più difficile giusto sì questa salita qua è 5 più non era in conto caspita quindi veramente veramente difficile veramente difficile io l'ho fatta due volte ma se mi dice adesso di andare a farla ci funzionate ma mi hai già messo fatica prima ancora anche solo a pensarci quindi pensa te dove la fare in bicicletta però poi abbiamo Triangia poi abbiamo la Valmasino la Costiera dei Cech Valtartano Valgerola lo Spluga il San Marco ecco quindi appassionati di bici se se venite in Valtellina andate da Isac vi porterà a fare le salite più impervie che che ecco anche questo non è il mio compito tanto io ci vado lo stesso vengo proprio a accompagnare bene a far conoscere certo far conoscere queste strade anche perché comunque voi avete la possibilità di di mettere avete il garage dove dove mettetele le biciclette quindi se viene qualcuno e tutto allora sì vabbè il garage è il minimo per le macchine se anche io quando vado con la bici la corsa se me la fanno mettere in camera preferisco addirittura la bici da corsa chi ha chi ha la sua bellissima bici da corsa è come un gioiello è prezioso guarda toccarla poi sai non è una mountain bike che è sporca di fango cioè la bici da corsa generalmente sempre ho capito cioè lasciate fuori la moglie però tenete la bici in camera quello è rascontato no però sai capisco che dopo abbiamo anche un angolo chiuso quindi volendo se proprio la moglie non vuole allora dici vabbè è un angolino ecco l'unica l'ultima cosa a dire che è appunto ogni allora questi due queste due chiamano i monolocali queste due bellissime camere suite sono hanno un ingresso riservato in modo che se anche uno poi vuole stare sul terrazzo a prendere il sole non lo vede nessuno quindi è molto è molto bella anche questa questa cosa della riservatezza ecco molto molto bella perché sai se qualcuno dice no io non voglio che mi rompa le scato nessuno poi arriverà qualche VIP in incognito a trovarmi e dirà sono andata in quel post e mi è crollata un pezzo di libreria mi è crollato uno sfondo verde che mi copriva i libri perché ora perché sono quasi le sette ora di terminare va bene bene Isak grazie a te io spero che arrivi veramente tanta gente adesso metteremo questo video lo metterò su Youtube perché vale veramente la pena di andare a visitare il tuo bimbi e ti auguro veramente un sacco di lavoro e di tanti ospiti e verrò a trovarti presto grazie mille grazie a te Isak e buona serata buon weekend ciao ciao a tutti ciao ecco bellissima diretta anche questa sera con Isak con contatto di caduta del mio sfondo di un pezzo di sfondo verde così avete visto come camuffo le cose è un bimbi veramente cioè è poco chiamarlo bimbi perché è veramente una cosa molto bella infatti si chiama sweet and breakfast andate a farci un giro se avete qualcuno non so che degli amici che vengono in Valtellina per vacanza non so vengono a trovarvi anche solo per un uicare weekend se li mandate lì secondo me fate una di quelle figure fighissime perché posti così non ce ne sono tanti ho girato un po' visto vari bimbi varie strutture in giro per l'Italia però una cosa così non l'ho mai vista veramente poi la posizione è spettacolare ci si trova ci si sente proprio proprio agio ci si sente bene e poi comunque siete nella zona del Grumello ci sono belle passeggiate da fare vicino al castello insomma siete a metà strada per andare veramente dappertutto allora questa settimana è finita questa settimana abbiamo fatto ho fatto due dirette in meno perché un giorno era festa un giorno ho avuto da fare comunque la settimana prossima riprendiamo con lunedì con un nuovo ospite che non vi voglio anticipare perché vi lascio vi lascio la suspense e auguro a tutti un buon weekend mi raccomando andate se fate delle belle foto mandateme in modo che le pubblico sui social perché dobbiamo condividere le cose belle della Valtellina grazie ancora a tutti e buon weekend ciao ciao Grazie a tutti.